La magia e la difficoltà del cubo di Rubik arrivano in città per il prossimo weekend. Sabato 26 e domenica 27 febbraio l'Hotel Flaminio sarà la location che ospiterà il Pesaro Open 2022, la competizione dedicata alla risoluzione del famoso rompicapo. Circa 100 partecipanti provenienti anche dall'estero si sfideranno col tempo per completare il cubo di Rubik e le sue diverse forme particolari. È un evento del quale andiamo orgogliosi perché ci saranno tanti atleti nella nostra città, l'età è dagli 8 ai 30 anni, quindi insomma invito se possibile magari anche visitare quelle che è la competizione, assistere perché è veramente qualcosa di affascinante e di spettacolare del quale andiamo orgogliosi di ospitare anche questo evento sportivo nella nostra città. Sono già scadute le iscrizioni, ovviamente non possono partecipare tutti ma insomma sono atleti, quindi veri atleti, quindi sono dei professionisti, sono dei ragazzi di sport che fanno questa attività. Presenti a questa gara anche tre giovani pesaresi, tra cui Giovanni Contardi, conosciuto per i suoi mosaici artistici con i cubi di Rubik, e Alessandro Ricci, campione in carica e detentore del record italiano nella disciplina dello Square One. Per i due è una passione nata e coltivata tra amici in età adolescenziale. Io inizialmente, come anche Giovanni, per via di amicizie, ovvero altre persone che risolvevano il cubo di Rubik, nel mio caso un'amica con cui facevo e faccio tuttora i giochi matematici, che era in grado di risolvere il cubo di Rubik e a me non andava genio che lei lo sapesse fare e io no, quindi cosa ho detto? Ho detto no, ce la devo fare anche io, quindi ho iniziato così a risolvere il cubo e da lì mi sono interessato a volerlo fare sempre più rapidamente e così è nata un hobby, una passione. E anche per me è simile storia, in primo superiore il mio amico portò il cubo in classe e mi insegnò a risolverlo in circa un paio di minuti, poi da lì mi sono appassionato, ho iniziato a partecipare a gare, qua si parla del 2009, quindi sono passati 13 anni da quando ho imparato il cubo a quando finalmente abbiamo una gara nella nostra città. Non c'è un vero e proprio segreto, c'è semplicemente applicazione, imparare tante mosse, tanti algoritmi che diciamo ci permettono di farlo in meno di 10 secondi e passione, perché senza quella non si è in grado. Secondo me chiunque può imparare a risolvere il cubo conoscendo il metodo e diciamo non è difficile imparare, io personalmente l'ho insegnato a centinaia di persone, quindi ecco, venire alla gara potrebbe essere uno stimolo in più per intraprendere questa nuova esperienza.